Intro Bentornato Cutler, bentornata Mi avvio a terminare questa decade parlando di protocolli ed indirizzi IP Hai compreso già come creare e utilizzare una rete informatica permettendo così uno scambio di bit all'interno della stessa tra i vari dispositivi Ma come dialogano questi dispositivi? Esiste un metodo che consente ad ogni dispositivo di dialogare con gli altri È definito protocollo internet ossia una serie di convenzioni, accordi, di regole che permettono di realizzare un qualcosa Questo qualcosa è la trasmissione di bit tra i vari dispositivi In pratica vengono identificati i metodi che tutti i dispositivi devono adottare affinché la comprensione, il dialogo reciproco venga realizzato La standardizzazione del metodo permette di trasmettere e ricevere in modo tale che tutti i dispositivi, anche diversi e programmi dissimili e prodotti da aziende più disparate possano interagire costruttivamente interpretando nello stesso modo i bit trasmessi Quindi anche se la tecnologia costruttiva dei dispositivi è diversa oppure il linguaggio di programmazione nella realizzazione dei vari programmi diversi comunque sfruttando questi protocolli standard si permette la trasmissione di bit Il metodo di trasmissione è definito protocollo che ad oggi è utilizzato ed indicato con la sigla TCPIP sigla che indica Transmission Control Protocol ed Internet Protocol Il protocollo TCP non farà altro che spezzettare e successivamente riassemblare l'informazione quindi i file, i bit, in piccoli pacchetti in modo da permetterne un più facile trasferimento Nel trasferimento esiste naturalmente il mittente e il destinatario L'IP, quindi l'indirizzo IP, si occupa proprio di questo ossia prendere in carico i pacchetti spezzettati che costituiscono il file originale e indirizzarli correttamente al destinatario Alcuni dei dispositivi che dialogano su Internet possono essere i vari computer, i telefoni, i vari tablet, modem router o ancora stampanti, fax, scanner o elettrodomestici anche, antifurti e molto altro ancora La trasmissione delle informazioni non avviene però in un'unica soluzione quindi spedizione arrivo ma per diversi stadi, stadi che sono definiti livelli Ogni livello può adottare un protocollo a sé che naturalmente potrà anche essere diverso rispetto ad altri Per capirci, immagina tu che devi parlare in italiano e trasmettere un'informazione ad un cinese Puoi utilizzare un solo interprete diretto italiano-cinese oppure scegliere una soluzione alternativa passando per vari interpreti, varie lingue fino ad arrivare a destinazione Ecco, diciamo che questi possono essere i vari protocolli attuabili e diversi in un lato nel trasferimento dell'informazione che in questo caso sono i dati, i file Un po' articolata forse ma l'importante è giungere a destinazione Tu non devi conoscere naturalmente il cinese così come ogni interprete, se vuoi non deve necessariamente conoscere la lingua iniziale quindi l'italiano oppure quella finale, il cinese È sufficiente che ogni interprete comprenda, conosca semplicemente la lingua che la procede e quella successiva in modo da far sì che l'informazione oltrepassi il suo livello protocollare Un'ulteriore variante può essere riferita ai vari programmi e varie tecnologie utilizzate nel trasferimento dei file dei bit, dei dati come l'http, quindi la versione web la posta elettronica il trasferimento dei file per caricare ad esempio dei siti su dei server la tecnologia senza fili bluetooth, wireless o quella cablata ethernet e così via Ogni tecnologia può avere un proprio protocollo In base al tipo di dato da trasferire i software impiegheranno naturalmente diversi protocolli ma alla fine l'importante è capirci In fin dei conti il succo è che anche se vengono utilizzati e applicati protocolli diversi in base alle necessità d'uso di programmi e di tecnologie l'informazione comunque deve giungere a destinazione in maniera corretta a meno di errori che si possono naturalmente manifestare tra i vari passaggi o per motivi software o per motivi hardware Come giungono a destinazione le informazioni? Il dialogo tra i vari dispositivi come descritto sottintende delle regole Una volta fissate le regole è necessario individuare ogni singolo dispositivo affinché ogni dispositivo connesso all'interno di una rete domestica, privata o pubblica possa essere raggiunto dalla informazione Come è possibile individuare ogni differente dispositivo all'interno di una rete? La risposta è apparentemente semplice fornire ad ognuno dei dispositivi connessi un codice identificativo univoco per distinguerlo proprio dagli altri Un po' come etichettare con nome e cognome un individuo per discriminarlo da un'altra persona Non basta? Allora aggiungiamo un secondo o un terzo nome fino ad organizzare una lista completa di tutte le persone sulla Terra in maniera univoca Altro esempio potrebbe essere il codice fiscale di una persona diverso da ogni altra oppure, per semplificare ulteriormente l'indirizzo del nostro appartamento Se un edificio è composto da diversi appartamenti ci sarà una via e un numero civico e poi l'interno Il codice identificativo di ogni dispositivo è denominato indirizzo P Internet Protocol Address Esiste un'agenzia chiamata ICAN che è incaricata di assegnare gli indirizzi P su scala planetaria ovviamente non esegue tutto da sola ma utilizza altre organizzazioni per realizzare il suo mandato Ogni volta che un tuo dispositivo computer, cellulare, smartphone, tablet si connette ad Internet o via cavo o senza fili gli viene assegnato un indirizzo IP in quel determinato momento e per tutta la durata della connessione è esclusivamente tuo o meglio del tuo dispositivo Nessun altro utente Internet in quel momento ne possiederà uno identico altrimenti nasceranno conflitti Quando i tuoi computer si devono scambiare i dati si ha quindi a disposizione tutto quanto è necessario ossia l'indirizzo IP del computer del mittente il file da trasferire il metodo di trasmissione quindi il protocollo ed infine l'indirizzo IP del destinatario L'hardware ed il software si occuperanno di gestire il tutto e tu dalla tua scrivania potrai semplicemente utilizzare il servizio La tipologia di un indirizzo IP è definita in base alla sua versione Cosa significa? Attualmente esiste una versione di indirizzo IP che sta zoppicando in quanto l'assegnazione di indirizzi vista l'enorme quantità di dispositivi connessi ad Internet anche contemporaneamente è enorme Questa versione è chiamata IP versione 4 32 bit In pratica un dispositivo è identificato da un numero che è strutturato da 4 gruppi di numeri del sistema binario Ogni gruppo può essere compreso da 1 o 3 cifre per un totale di numericamente parlando valori compresi tra 0 e 255 con questa tipologia quindi 4 gruppi di 3 numeri massimo Un esempio potrebbe essere 192.168.1.1 che tradotta naturalmente in bit che è il linguaggio informatico è questo quindi un totale di 32 bit appunto come vengono evidenziati questo gruppo corrisponderà a 192 questo gruppo 168 questo e quest'altro a numeri 1 in termini di bit con questa versione si riescono ad indirizzare 2 alla 32 dispositivi e quindi avere a disposizione 2 alla 32 indirizzi che come puoi ben vedere è un numero molto elevato ma come ritorno a dire per l'enorme quantità di dispositivi connessi ad internet è entrato in crisi la nuova versione che è alternativa appunto alla precedente utilizza ben 128 bit definita come ipv6 è strutturata con 8 gruppi di numeri del sistema esadecimale ogni gruppo di numero è compreso da cifre da 4 cifre che corrispondono numericamente parlando a valori compresi tra 00 e ffff che seguendo questa tipologia è così rappresentata ad esempio un ipotetico indirizzo i bit ipv6 è così costituito quindi 8 gruppi di cifre ogni gruppo è composto da 4 cifre cosa significa questa stringa dalla tabella seguente possiamo ottenere informazioni migliori qui è rappresentata la colonna del gruppo decimale che corrisponde al gruppo binario così evidenziato e il corrispondente valore esadecimale quindi un ipotetico valore appena rappresentato 1,3,4,2 corrisponde a 4 gruppi di bit corrispondente alla cifra 1,3,4,2 oppure A,C,0,1 oppure ancora B,B,8,7 e così via per un totale di 128 bit la corrispondenza numerica ripeto la puoi realizzare seguendo questa tabella in questo caso il numero di dispositivi indirizzabili è ben 2 alla 128 e per il momento diciamo che è sufficiente in quanto navigatore o navigatrice non devi preoccuparti di scegliere quale protocollo utilizzare in quanto la migrazione dal vecchio sistema al vecchio IPv4 al nuovo avrà in tempi lunghi e sarà a cura dei gestori di internet questi indirizzi possono configurarsi con indirizzi statici o dinamici nel momento in cui tu sei collegato ad internet il tuo dispositivo avrà un indirizzo quando sconnetti il tuo dispositivo da internet l'indirizzo IP che era assegnato a te tornerà disponibile naturalmente per un altro utente per un altro dispositivo alla successiva connessione tramite il tuo dispositivo otterrai un nuovo indirizzo IP potrebbe anche essere lo stesso ma di norma è diverso questa tipologia di connessione è definita con connessione tramite indirizzi IP dinamici quindi variabili esistono realtà in cui un indirizzo IP sarà assegnato in maniera statica quindi definitiva sempre uguale anche scollegandosi e riconnettendosi alla rete perché un computer centrale ad esempio un server di un fornitore di servizi risiede sia sempre allo stesso luogo e naturalmente rimane sempre connesso ad internet e logicamente la naturale conseguenza sarà quella di aver assegnato un indirizzo IP permanente sostanzialmente un sito web altro esempio risiede sempre sullo stesso server di un'azienda e quindi otterrà uno stesso indirizzo IP statico in Italia alcune aziende utilizzano per i propri clienti anche un'assegnazione di indirizzi IP statici ma come è possibile conoscere il proprio indirizzo IP di norma non è che ti serva però potrebbe verificarsi la necessità di individuare qual è il proprio indirizzo IP che ripeto è assegnato dal fornitore di servizi questo valore è individuato con il termine indirizzo pubblico per conoscere indirizzo pubblico assegnato o statico oppure dinamico ma statico per quella specifica connessione puoi percorrere varie strade esistono dei siti che indicano tale panametro come whatismyipaddress.com oppure speedtest.net utilizza questi servizi se lo vuoi conoscere e senza installare nulla sul tuo computer in alternativa puoi infatti anche utilizzare programmi in grado di risolvere tale dubbio personalmente io tra i vari browser utilizzo questo in particolare maxton che permette proprio di salire all'indirizzo ip locale e pubblico l'indirizzo locale è quello relativo alla tua rete domessia quindi il tuo gruppo di dispositivi collegati all'interno ad esempio della tua abitazione mentre quello pubblico sarà quello assegnato al router dal tuo fornitore di servizi l'indirizzo pubblico soprattutto se è statico devi considerarlo come dato sensibile in quanto permette l'accesso al tuo dispositivo e potenzialmente potrebbe anche mettere a rischio la sicurezza del tuo computer e quindi dei tuoi dati se non hai attivato le normali azioni di tutela della tua rete terminiamo questa decada di lezioni e ti rimando alla prossima per iniziarne una nuova ora un forte saluto ciao a presto da Carlo e dalla prossima grazie a tutti Grazie a tutti.